salve ragazzi benvenuti a di nuovo qui su fangames cioè i giochi creati dai fan e siamo ad un capitolo davvero molto interessante che sarebbe spiro e questo qui sto vedendo che c'erano progressi e si chiama spiro the might awakens del genere metti il link in descrizione del creatore tra cui io lo sto seguendo anche su discord vediamo un po com'è welcome back to glimmer spyro I have heard so much about you I just wish you were visiting under better circumstances ok come vedete è tipo la prima mappa di spiro 2 dove è tutto distrutto ci sono pure casse nuove è fatto pure bene allora c'è una nuova mappa eccola qui la mossa questo aggiunto pure questa mossa nuova con queste nuove gem davvero bello come idea e ci sta lavorando solo su livelli livelli personaggi cioè stanno andando avanti questo lavoro io consiglio di seguirlo e di supportarlo perché sta proprio facendo un libero e proprio spiro 4 non quello della playstation 2 che non si può considerare un quarto capito e rispecchia proprio il vecchio stile ecco qua ha aggiunto invece delle come si chiamano delle gemme non le gemme come si chiama vabbè vabbè andiamo un po' qui la stazione esploriamo tutto perché mi sa che dobbiamo prendere tutto per poterlo finire questo livello demo cioè guardate che fatto è bene sembra più il gioco avere proprio vediamo quest'acqua e anche se ho tappato minchia pure i suoni ho fatto veramente bene vediamo qua com'è vediamo qua com'è oh l'altra camera anche qui la fata cioè fatta tutto proprio benissimo e se devo andare qui dov'è andare qui e qui dove porta vediamo qua com'è vediamo qua com'è vediamo qua com'è perfetto ecco questa cazzo di telecamera che è ok questi se li rompiamo tutti ci è trattato tutto un bel po' di gemme dovrebbe darci eh che fatto bene ah dobbiamo romperli subito questi vabbè li faccio per ultimo ciò è filata proprio un altro gioco da tutte queste cose distrutte chissà la trama come sarà c'è sempre proprio di gioco uno dei dei tre capitoli è fatto meglio eh si è bloccato ok ah la c'era una gemma scusate scusate vediamo e qui c'è sta gemma arancione ah è lassù come cazzo è arrivato proviamo di qua ok vediamo cosa manca questo qui vediamo se lo riusciamo a fare mi pare che ce n'è uno mi pare che ce n'è uno mazzo il verde ah ah merda nooo manca che lag vabbè andiamo di qua ancora restano illuminati nooo nooo ma dall'inizio no 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 dobbiamo fare così almeno c'è il salvataggio che non che non che non che che ci che dobbiamo prendere le ultime cose rimaste che cazzo proviamo a fare così la gemma celeste è strana comunque molto fluido molto giocabile i comandi sono comodi c'è per un pc gamer ok e vai ho preso tutto e mince ha fatto veramente bene bello qui metto il link in descrizione se volete seguirlo ci vediamo in un prossimo video alla prossima ciao 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 ciao